Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova lezione di storia. Oggi parleremo di Maometto e della nascita dell'Islam. Collochiamo l'azione di Maometto sulla linea del tempo. La sua azione, la sua predicazione e la nascita dell'Islam si collocano all'inizio del VII secolo. Muhammad, latinizzato in Maometto, nacque alla Mecca probabilmente verso il 570 da un ramo minore della tribù dei Quraish e svolse l'attività di mercante. Verso il 595 sposò una ricca vedova, Khadija, parecchio più anziana di lui, e il raggio d'azione del suo lavoro di mercante si allargò a tutta l'Arabia e ai paesi confinanti. Questi viaggi commerciali gli consentirono di entrare in contatto con le comunità ebraiche e cristiane della Siria e della Palestina, dal cui monoteismo fu profondamente influenzato. L'incontro poi con il mondo degli Hanif, una setta religiosa araba che praticava una vita ascetica e che precorse per alcuni aspetti dell'Islamismo, spinse Maometto ad abbandonare i commerci per dedicarsi unicamente alla preghiera. Secondo la tradizione, una notte dell'anno 610 in una grotta presso la Mecca dove si era ritirato a meditare, Maometto ricevette da Dio, Allah, le rivelazioni che furono alla base della sua successiva predicazione. I messaggi rivelati da Allah a Maometto, che furono raccolti verso la metà del VII secolo nel Corano, il testo sacro dell'Islam, erano semplici e improntati a un monoteismo rigoroso. L'affermazione che costituì il fondamento della nuova religione dice, non esiste altro Dio che Allah e Maometto è il suo profeta. Maometto infatti si presentava come il profeta inviato da Allah per trasmettere il suo messaggio agli uomini e seppur scelto da Dio come tramite, rimaneva di natura integralmente umana. Secondo il messaggio del profeta, Allah è il creatore di tutto, infinitamente potente e giusto. L'uomo deve semplicemente essergli riconoscente, adorarlo e sottomettersi a Lui. Chi non si sottomette a Dio è destinato a essere da Lui giudicato con severità nel giudizio finale e a ricevere il castigo eterno. Era nata una nuova religione, l'Islam. Il messaggio religioso di Maometto si diffuse subito alla Mecca, dove l'aspettazione di una società migliore fece rapidamente presa soprattutto fra i ceti di lavoratori, sfruttati dalle potenti famiglie di mercanti. La nuova religione comprendeva infatti l'invito a donare parte della propria ricchezza ai poveri, mentre l'idea dell'uguaglianza di tutti i fedeli di fronte a Dio poteva tradursi in un richiamo a una società più egualitaria. Se questi temi favorirono da un lato la diffusione del messaggio di Maometto, dall'altro suscitarono l'ostilità dell'oligarchia meccana. Le grandi famiglie della città ricavavano ingenti guadagni dei pellegrinaggi alla Caba e dunque vedevano nel monoteismo predicato da Maometto una minaccia per i tradizionali culti politeisti, di cui la Mecca e il suo santuario erano il centro. Nel 619, peraltro, morì la moglie di Maometto, Khadija, che aveva sempre appoggiato le scelte del marito e aveva potuto proteggerlo dai mercanti della Mecca. Così l'ostilità verso Maometto e i suoi discepoli divenne scoperta. Essi subirono una serie di persecuzioni e furono costretti a trasferirsi agli atrib, chiamata poi Medina, ossia la città del profeta. Medina era un altro importante centro carovaniero, situato però più all'interno della penisola arabica. Questa emigrazione sarà ricordata col nome di Egira ed avvenne nel 622, data che poi sarà posta come inizio dell'era e del calendario musulmano. I pochi anni che Maometto trascorse alla guida della comunità di Medina furono decisivi, sia per la definizione della dottrina, sia per la diffusione della nuova religione. Allo stesso tempo Maometto rafforzò il proprio ruolo non solo di leader spirituale, ma anche di guida politica della nascente arabia musulmana. Da un punto di vista dottrinale, Maometto si allontanò progressivamente dall'ebraismo e dal cristianesimo, legando sempre di più il suo messaggio religioso alle tradizioni del mondo arabo e beduino. La fede predicata da Maometto si impergnava su alcuni semplici precetti. La religione musulmana non prevede sacerdoti per celebrare i culti e i riti religiosi, che possono essere compiuti da ogni fedele, anche individualmente. Nel giorno sacro, il venerdì, i fedeli devono recitare la preghiera in comune nella moschea, l'edificio di culto caratteristico della religione islamica. La fede predicata da Maometto si impernia su alcuni semplici precetti, detti cinque pilastri dell'Islam. La professione di fede in Allah unico Dio e in Maometto suo profeta. La preghiera, da recitare cinque volte al giorno rivolti verso la Mecca. Il versamento dell'elemosina legale alla comunità, in pratica una tassa destinata a scopi di beneficenza e di aiuto ai poveri, che non esonera il credente dall'elemosina personale. Il digiuno rituale nel mese del Ramadan, il nono mese del calendario musulmano, durante il quale dall'alba al tramonto del sole è vietato ai fedeli mangiare, bere, fumare e avere rapporti sessuali. Il pellegrinaggio alla Mecca, da compiere almeno una volta nella vita. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Termina qui la prima parte dedicata all'Islam e a Maometto. Non perdete il prossimo contenuto.